Il pentito catanese Maurizio Avola, che con le sue dichiarazioni ha impresso un'accelerazione all'inchiesta sull'omicidio del magistrato di Cassazione, Antonio Scopelliti, ucciso in Calabria il 9 agosto del 1991, ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 1994, ma solo recentemente avrebbe iniziato a parlare con i magistrati calabresi. A 28 anni dal delitto è questo il quadro investigativo che emerge dall'inchiesta riaperta dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, nella quale sono indagati 17 boss siciliani e calabresi. Maurizio Avola, che oggi ha 57 anni, durante la sua carriera criminale è stato un sicario della famiglia mafiosa dei Santa Paola, arrestato nel 1993, fino a oggi ha già confessato poco meno di un centinaio di omicidi. Da pentito ha più volte dichiarato e confermato i rapporti fra il gruppo Santa Paola e l'Andrangheta Regina, i De Stefano soprattutto. Maurizio Avola li ricorda bene quei periodi seppur datati nel tempo e gli affari gomito a gomito. Comuni traffici di stupefacenti che vennero organizzati da Paolo De Stefano ed Ercolano Salvatore. Io stesso accompagnai Ercolano Salvatore a Reggio Calabria ad incontri con De Stefano. Siamo negli anni 1983-1984. Poi Nitto Santa Paola mi disse che non dovevo più occuparmi di queste faccende per cui mi sono stenuto. Il problema era fra Nitto Santa Paola e Salvatore Ercolano. In sostanza i rapporti fra i Santa Paola e i De Stefano continuavano ma Nitto non voleva che tali rapporti fossero portati avanti da Salvatore Ercolano. In quel periodo il processo per la sparatoria avvenuta a Catania a Via delle Olimpiadi era stato trasferito a Reggio Calabria. Non ricordo per quale ragione, poiché erano imputati Antonio Santa Paola, Salvatore Pappalardo e Natale di Raimondo, oggi collaboratore, Aldo Ercolano, rappresentante all'epoca della famiglia Santa Paola ebbe contatti con Paolo De Stefano affinché quest'ultimo cercasse di far aggiustare il processo. So di questa vicenda in quanto di questo interessamento me ne parlò lo stesso Aldo Ercolano. Non so dire come sia andato a finire questo interessamento. Certo è che nel 1986 i tre imputati vennero scarcerati. A Sereggio Catania che resiste anche dopo l'agguato eccellente il 15 ottobre 1985 a Paolo De Stefano, il capo dei capi dell'andrangheta reggina. Dopo la morte di Paolo De Stefano i referenti calabresi di Cosa Nostra Catanese divennero le famiglie De Stefano Piromalli. Preciso meglio, per un periodo successivo alla morte di Paolo De Stefano i rapporti si raffreddarono. Evidentemente, attesa la guerra in corso, non si sapeva con chi parlare. Poi dai discorsi che facevano i miei capi, mi riferisco agli Ercolano e in Santa Paola, capivo che se c'era un problema da risolvere in Calabria, i referenti erano sia i De Stefano che i Piromalli. Non so specificare chi dei De Stefano e chi dei Piromalli, ma si faceva riferimento a queste due famiglie.